Ciao. Dove mi metto? Hai un'intervista già? Sì! Come stai? Bene, bene. Prendere un nuovo giocatore della Juventus, che effetto ti fa sentire queste parole? È un momento che è arrivato che io stavo sempre aspettando. È una grande squadra della Juventus, quindi sono molto contento e felice di essere qui. Che cosa ti ha spinto a scegliere la Juve? La Juventus è una squadra che sempre vince, quindi ho anche l'ambizione di vincere. Ho parlato un po' anche con Chiellini e ho deciso di dire che la Juventus è la mia migliore scuola. La Juve ha una straordinaria tradizione di grandi difensori. Tu ambisci a diventare un grande difensore della Juve e lo sei già molto forte. C'è un giocatore della storia della Juve, del passato o del presente, al quale un po' ti ispiri? Sì, certo. Chiellini è il miglior difensore dell'Italia, sempre ho detto questo. Quindi mi ispiro anche un po' in lui, perché lui come difende, so esiste lui. Quindi provo a fare quello che fa lui. Hai ricevuto il premio come miglior difensore dell'ultimo campionato di Serie A, grazie a una serie di prestazioni veramente straordinarie con la maglia del Torino. Cos'è che ti senti migliorato maggiormente nell'ultimo anno? No, è stato un allenatore bravo, lui mi ha insegnato delle cose. Da quattro anni sono in Italia, quindi ogni anno stavo migliorando. Defensivamente sono un ragazzo più completo. Che Juve sta nascendo secondo te? Sei arrivato tu, è arrivato un grande campione come Di Maria, Pogba e anche altri giocatori? No, sì, certo. Quando l'ho visto che è arrivato Pogba e Di Maria, non c'era dubbio che era la Juve che doveva scegliere. Siamo una squadra che luttiamo sempre per vincere. Possiamo dire che sono anche un po' i tuoi colori del destino, il bianco e il nero, perché con l'Atletico Mineiro, che è la squadra che poi ti ha portato qui in Italia, l'indossavi già? Sì, sì, è il destino. Ho anche un cane che è bianco e nero, quindi era tutto il destino. Un'ultima cosa, qual è il tuo sogno più grande da coronare con la maglia bianconera della Juve? No, come ho detto, voglio vincere, scudendo la Champions, voglio sempre vincere. Quindi questo è il mio obiettivo. Grazie. Prego. Prosto. Super. Grazie mille, benvenuto. Grazie. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.